Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un nuovo video su un gioco sempre di corse perché io in questo ultimo periodo mi piacciono molto i giochi di corse cioè delle macchie e quindi mi ho trovato uno posto apposta per i video di oggi Ciao a tutti Ciao a tutti qui è bello che mi fa scegliere le macchie, queste macchine qua, cioè tutti i vari tipi perché in certi giochi di macchine stanno quelli giunti che sono un'autovettura cioè le altre autovetture si paga ma qua mi sono trovato molto fortunato perché non devo non devo pagare le altre autovetture queste sono delle macchine consigliate ma tocca a me la scelta faccio questa raga guardate guardate la pista già adesso che ho cominciato a gareggiare non è classificato proprio il gioco di corsa perché se c'è uno che c'è una persona guarda sto video e dice questo è un gioco di corsa è classificato già un bimbo, ve lo assicuro perché è più gioco di macchine che di corsa e poi se non vai gioco di macchine no dai porca vacca la cosa che mi permette è che solo io sono un bimbo, se è che sono un bimbo a fare dei giochi senza la patente di guida e con questo ci avete che metto tutto dai ce la dobbiamo fare, dai che va a calare il mio, dai fai bene siamo quasi alla fine, dai che siamo arrivati sì ragazzi il primo percorso è andato a buon video quindi ragazzi andiamo al next level ok ah 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 Porco, ne vanno morto, hanno fatto davvero il fisico qua. Cavolo, rara, mai che c'è una morta anche qui. Dai qua le botteghiemo, botteghiemo le vittorie, dai! Avete capito che posso ogni tanto entrare giù, però... L'arra non è che tu si entrare giù, eh! Ecco, per esempio, ora qua c'ho un segnale, vedi? Chi non conosce il segnale, veramente, questo gioco non lo può fare. Ma maledizioni, ma perché ti senti giù? Chi non conosce, chi non conosce? No, quasi credo che per te! Come ci siamo fatti a salvare? Non lo so neanche io, no, eh! Raga, basta con le bube, dai! E' poca vacca! So livello però, eh! Qu colaborerebbe allora io, suon caносci la nastrata per ora? Cos'è una copia guardata per ora? Che i nbi, eh! Ti online guarda per ora! questo è vero che deve pregare oh mio dio raga ci siete a cuore quello che la stagione significa di più sì infatti sì sì è questo dai che ce l'abbiamo fatta grazie a Dino ce l'abbiamo fatta avanti pure dai avanti guardate qua ce l'ho fatta perché sto andando giù non sapete che la patente non gelò se faccio questi sbagli e l'accusa della patente guardate ma che cazzo sta succedendo questa vista pure come capisco io ma cosa voleva fare questa macchina guardate ma non c'è dire che ti fermi sempre a quel punto non c'è nemmeno fermare sempre a quel punto e già non si copisce niente questa pista ma non lo so perché cazzo sta andando da là la bocca ma mettete là almeno un cavo di segnale che deve dire che ti stanno andando a quella parte o a quell'altra parte perché uno che è passato giù è anche quella pupa là cioè può sbagliare anche di che cazzo ragazzi ragazzi posso pure flippare assai ma mi sa che questo livello non lo riusciremo a fare 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 un minuto gioco qua sì raga sono riuscito a fare sto gioco senza la patente di qui perché mi sa che qua la patente ci voleva comunque ci siamo riusciiti senza patente ragazzi questo è tutto il video di oggi mettete come sempre like in descrizione attivate la campanella la campanellina attivata e ci vediamo come sempre al prossimo video è una cosa che vi dovete ricordare non dovete mai dimenticare iscrivetevi al mio canale se non siete voi iscriviti ci vediamo al next video bye bye